Ma tu ti fidi di Waze? Ma tu veramente credi a Waze? Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Com'è possibile che noi che non crediamo nulla se non a ciò che sperimentiamo ci fidiamo di una app che ci dice dove dobbiamo andare e quale strade fare? Ma siamo davvero sicuri? E una volta andavi a Zonzo, cercavi la destinazione pensando di orientarti. Poi magari c'erano i cartelli stradali, uno ogni tanto e ti guidavano. Poi ti fermavi a chiedere informazioni e ti fidavi di quello che ti dicevano. Poi sono comparse le cartine, gli atlanti stradali, anche le cartine delle singole città più importanti e andavi a fare le fotocopie nei centri SIP della tua città. Infine è arrivato il navigatore, quello delle auto che però era statico. Wade e i suoi fratelli, che sono dinamici, ti dicono anche quanto traffico c'è e ti suggeriscono di fare delle deviazioni. E così arrivi prima alla destinazione. Non è così forse anche per le leggi? Per le regole morali? Per quello che ti aiuta ad arrivare alla destinazione? È più facile andare a tentoni, fermarsi a chiedere, cercare qualche segnale o fidarsi di chi ci dà la legge? Perché dovremmo fidarci di un navigatore e non di qualcuno che ha la pretesa di dire io sono la via, la verità e la vita o cose analoge? Perché alla fine è tutta una questione di che cosa ti fidi, di quello a cui credi. Non è vero che sperimentiamo tutto da soli perché nella fine ci mettiamo nelle mani di qualcosa o di qualcuno. Tuttate di capire qual è il livello di fiducia che abbiamo per farlo. Buongiorno e buon caffè.